Questo è uno step importante del nostro percorso, del percorso della città, della città intera e ovviamente del Consiglio Comunale, oltre che dell'amministrazione, uno step importante di un percorso sul tema dell'investimento sul sistema fognario. È importante perché la complessità del lavoro comporta dei passaggi come quello di oggi, come quello che ci saranno, dovranno essere poi ulteriormente articolati. È un lavoro, questo ho cominciato due anni fa, appena insediati. Un lavoro che attiene, se non altro, il riordino anche delle priorità rispetto a quelle che la città si era dato. Mi permetto di dire, perché poi proseguiremo anche in Consiglio Comunale, questo Consiglio Comunale si è insediato per la prima volta a luglio 2011, dove nel Consiglio Comunale sono state presentate le linee di indirizzo e ci ricordiamo tutti come in quel momento scoppia nella sua drammaticità e si rende visibile sopra nella sua drammaticità il problema del sistema fognario. Si ruppero le paratie di Piazzale Kennedy e ciò che solitamente si sversava a mare e in quell'occasione si sversò anche a terra. Non solo per quel fatto, ovviamente, ma... Come? No, no, non ho capito. No, 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 ok, no, ok. Ok, no, non l'avevo capito, ok. Ok, no, no, a posto. Ho perso il filo. Ah, ecco, dice Kennedy, Piazzale Kennedy. Nelle linee di mandato venivano individuate alcune coordinate della traiettoria di governo proposta alla città, che erano coordinate che riguardavano la pianificazione territoriale, cioè i fari... Erano coordinate che generalmente avevano a che fare con una consapevolezza. Era finito un modello di sviluppo nella nostra città che aveva dato benessere e ricchezza diffusa, ma ora quel modello di sviluppo consegnava alla città anche la drammaticità dei problemi, consegnava i limiti di quel modello di sviluppo in termini di qualità dell'area, qualità della vita, traffico, ovviamente in termini di sistema fognario. Quelle linee di indirizzo contenevano un progetto organico di direzione di marcia di come poteva stare Rimini nei prossimi anni. Poi lo vedremo, un progetto come dire che tiene con sé ciò che gli atti, gli indirizzi che determinano la pianificazione territoriale, che ad esempio tentano di far uscire dall'uso e consumo del territorio alla città, tengono insieme quegli atti, cioè ciò che si fa sopra con ciò che si deve fare sotto. Perché sappiamo benissimo che se abbiamo un problema il sistema fognario, il sistema fognario da qualche parte è allacciato a qualcosa sopra. Quindi, come dire, quelle linee di indirizzo contenevano una direzione di marcia. Luglio 2011, Paratia, si decise allora subito un'accelerazione, questo Consiglio Comunale con la partecipazione di decine e decine di associazioni. Qui ovviamente non c'è che un plauso anche al lavoro del Consiglio Comunale precedentemente svolto. vi ricorderete il Consiglio Comunale nella precedente legislatura approvò il piano generale sulle fogne con gli atti di indirizzo conseguente. Appena insediati per dare corso alla nuova direzione amministrativa e in relazione anche al dramma, al problema di luglio Piazzale Kennedy 2011, si decise una prima, come dire, accelerazione. Una prima novità, questo fu sotto gli occhi di tutti, al netto delle soluzioni, cioè al netto si decise di nel giro di 3-4 mesi trasformare quell'atto, quel piano generale delle fogne in qualcosa che cominciasse ad avere le coordinate di un progetto concreto. Tant'è che si passò dal piano generale delle fogne e dall'atto di indirizzo che, vi ricorderete, come dire, individuava una mole di risorse per intervenire sul problema addirittura vicino al miliardo di euro, 990, 8 milioni, adesso non ricordo esattamente la cifra, si decise di tradurre quel piano generale delle fogne nel piano di salvaguardia della bagnazione, nel PSB. Devo dire che già allora ci fu una piccola innovazione, o se volete, si, non dico costrinse, ma si impose il fatto che gli uffici del Comune cominciassero a lavorare organicamente con il gestore e si arrivò a fine del 2011, a dicembre del 2011, c'è l'approvazione del PSB. Il criterio allora era, fu, dato anche il quadro di risorse, l'impegno, i rapporti con il gestore che dovevano ancora svilupparsi ulteriormente, si assunse attorno a quel piano di salvaguardia della bagnazione il cosiddetto principio di pareto, se vi ricordate, con il massimo delle risorse che ho, tento di ottenere il massimo del risultato possibile, anche se il risultato possibile non è il 100%, era il famoso, ricorderete, criterio di pareto che ragionava appunto su questo assioma. Tant'è che il piano di salvaguardia della bagnazione prevedeva un intervento su 8 sforatori su 11, rimandando poi l'intervento su gli esclusi 3 a successivi atti, azioni, eccetera, eccetera. Dal gennaio 2012 in avanti, cos'è successo? Un anno straordinariamente importante, io questo lo voglio sottolineare, e non lo scrivo sicuramente, guardate, provate, provate, proviamo a darcene atto, noi ai contributi che sono arrivati, voi anche, come dire, potendo leggere laicamente un percorso, in questo anno è successa una cosa importante, perché intanto sono stati aperti tre cantieri, noi qui non ci siamo riusciti a farlo arrivare, a farlo, scusate, io mi tolgo la giacca, a farlo arrivare compiutamente, però in questo anno sono stati avviati i lavori per i cantieri di Isola, la Dorsale Nord e Santa Giustina, per un totale di 47 milioni, e guardate, è l'inizio dei lavori che rappresenta già il 30% della mole complessiva dei lavori che il piano di salvaguardia e della balnazione prevede e anche quello, il cosiddetto PSB 2, il PSB ottimizzato. Quindi quest'anno sono partiti i lavori, anche qui si potrebbe dire, sì, erano stati preventivati, erano lavori, vi ricorderete, che noi abbiamo deciso di assumerci una responsabilità, in relazione al fatto che, lo abbiamo detto, le fogne sono la priorità di questa amministrazione, sono il cuore della nuova direzione di marcia, se diciamo stop al consumo del territorio sopra, il nostro obiettivo è anche quello di essere una città non sul mare, ma di mare, con la balneazione accessibile al 100%, è vero che erano lavori preventivati, però ci siamo assunti la responsabilità, ad esempio, di andare avanti, nonostante i ricorsi che sono arrivati, perché questo è il paese del mio vicino di casa, che qualsiasi fiore pianto nel mio orto, c'è quell'altro che ti fa il ricorso. E questo è un fatto, perché assumersi la responsabilità di andare avanti a ricorsi in piedi, sapete a che tipo di responsabilità espone. era, devo dire, su nostra indicazione, ma anche per loro ovviamente condivisione, si è assunta appunto questa responsabilità. Erano quei lavori finanziati, ma erano oggettivamente bloccati, sono stati riaperti, siamo andati avanti, ma hanno fatto il muro contro muro con i ricorrenti. Quindi i lavori sono partiti, poi cosa è successo in quest'anno? Io ho avuto modo di dirlo alla presentazione del bilancio di sostenibilità presentato dal gestore. Una piccola, perché poi le cose contano, e conta anche dirle, secondo me, in modo trasparente. Noi abbiamo avuto delle difficoltà con ERA, abbiamo avuto delle difficoltà con il gestore. Io ricordo, appena insediati qua, c'era la presentazione del bilancio di sostenibilità, sono andato il primo anno e il primo anno siamo andati a dire ciò che comunque avevamo raccolto e percepito durante ad esempio la campagna elettorale. 2011 noi avevamo raccolto il tema di un problema con il gestore in relazione alle fogne, in relazione ad una percepita giustificata o ingiustificata, però distanza di come era percepito il gestore nella nostra realtà, di come la nostra comunità cominciava ad avere una sensibilità fortissima sul tema delle fogne e sentiva non una vicinanza così, così forte. e andai al primo bilancio di sostenibilità con una posizione piuttosto dialettica per non dire critica, anzi per dire per alcuni aspetti critica, tant'è che da lì arriva l'amministrazione, il sindaco, cominciamo ad essere uno di quei comuni che pone delle questioni al gestore. In quest'anno come sono andate le cose? Sono partiti i lavori, noi abbiamo tentato di provare a far fare anche un salto di rango al tema delle fogne che è evidente un tema riminese che riguarda le nostre inadempienze, che riguarda i nostri ritardi, ma che è un tema oggettivamente regionale e nazionale perché il tema della balneazione per il più grande distretto turistico del paese è un tema che riguarda un paese perché se sei quel distretto lì, se sei un polo che produce un tipo di prodotto, l'acciaio, il carbone, per il paese, tu sei un tema del paese. Noi forse questo tema qua lo avevamo anche, mi permetto di dire, forse un po' sottovalutato. E allora in questo anno è partito un lavoro importantissimo, importantissimo che ha fatto sì che il gestore si trovasse di fronte un'amministrazione che ha saputo quando è il momento dal nostro punto di vista argomentare dei no e può trovarsi nella condizione di sostenere invece un percorso condiviso quando quel percorso condiviso è convincente ad esempio sul tema delle fogne. Perché dico questo? Perché in quell'anno noi siamo stati quel comune, io ricordo qua quando siamo passati noi abbiamo detto che alcune cose non le capivamo potevamo capire ad esempio le ragioni di un processo industriale che portava era a fondersi con acce gas ma quello stesso progetto che aveva ragioni industriali rispetto al nostro tema la nostra priorità lo sentivamo come un processo che magari poteva allontanare ancora di più il gestore invece dal farsi carico di un tema. Siamo arrivati in quest'anno ad esprimere un voto contrario in consiglio comunale cioè sto segnando un po' il percorso fatto non è stato un percorso di no frizzi, lassi, rose e fiori applausi eccetera c'è stato era si è trovato di fronte un'amministrazione che aveva in testa l'idea di cambiare una dimensione dello sviluppo facendo i conti con se stessa con la pianificazione territoriale avendo il coraggio di fare delle varianti mettendo in campo un'idea di città e in quest'idea di città c'era forte l'idea di porre l'esigenza del suo sistema fognario come un'esigenza nostra ma anche di chi fa parte di questo sistema quindi questo anno è iniziato questo rapporto e che ci ha portato oggi ad esempio a far sì che si venga in consiglio comunale quest'anno di lavoro avendo sviluppato un progetto organico da un punto di vista ingegneristico idraulico e del piano finanziario di sostenibilità economica progetto che grazie a questo lavoro di un anno oggi ha visto un territorio di aria vasta condividere come priorità il tema del sistema fognario riminese cioè oggi quello che portiamo qui questo anno è stato decisivo perché se voi guardate e guarderemo anche alla fine la parte di la parte che sorregge da un punto di vista finanziario il piano e quella parte lì è sorretta dalla condivisione dei territori di Ravenna di Forlì di Cesena se guardate una parte del piano finanziario noterete che l'anticipo e le risorse che emette Romagnac e penso solo al triennio 2015-2018 fatto quel triennio adesso se non ricordo male le cifre ma poi sono tutte scritte fatto per quel triennio come dire degli investimenti per una cinquantina se non sbaglio di milioni 30 sono per il territorio riminese 10 per Ravenna e 10 per Forlì Cesena cioè quest'anno è stato l'anno in cui Rimini ha ribaltato l'ordine anche delle priorità e l'ordine anche del rango dei rapporti con gli altri siamo diventati una priorità per la regione per il territorio di area vasta e non da ultimo anche grazie alla possibilità di aver sviluppato un progetto concreto operativo siamo anche una priorità a livello nazionale lo dico perché questo non è merito dell'amministrazione comunale è merito di un consesso una comunità che su questo con punti di vista diversi se volete ha fatto pressione sull'amministrazione l'abbiamo raccolta l'abbiamo condivisa però guardate che noi forse anche in questo orgoglio riminese dove i dibattiti a volte ce li cuciniamo solo in casa avevamo perso di vista il fatto che su alcune partite tu devi avere delle sponde degli orizzonti veri non puoi essere autarchico noi è vero che ce li dobbiamo risolvere da soli i problemi ma è anche vero che siccome siamo un pezzo di economia importante del paese è bene trovare un governo nazionale ebbene quest'anno è successo questo è stato un punto di svolta cioè noi usciamo dall'angolo di un problema dove tra l'altro da soli non saremmo riusciti a probabilmente a venirne fuori e oggi presentiamo un piano in cui Ravenna Forlice Esena i territori dell'area vasta la regione il gestore e persino il livello del governo nazionale assumono come priorità la priorità riminese è un dato istituzionale non dico politico da non disperdere da non disperdere conquistato conquistato lo devo dire per il lavoro della maggioranza per l'incalzare dell'opposizione e questo è un risultato importante perché dal nostro punto di vista è la quarta coordinata di questa traiettoria di marcia che è la quarta coordinata il quarto architrave della casa Rimini del futuro se il primo è la revisione l'incrocio tra piano strategico e PSC la pianificazione territoriale abbiamo dato un segno se il secondo è la riorganizzazione di un nuovo welfare con un sistema integrato pubblico e privato se il terzo è come dire l'innovazione il riposizionamento anche la qualificazione del nostro prodotto turistico il quarto è quel tassello che va sotto la voce infrastrutture e quindi la mobilità l'aeroporto e il sistema fognario noi oggi mettiamo come dire la quarta coordinata di un progetto che è il progetto di una Rimini che interpreta il cambiamento arriviamo dal PSB al PSB ottimizzato cosa è successo in questo anno quindi ci siamo conquistati un rango nazionale regionale nazionale tant'è che è dimostrato dagli altri che mettono i soldi abbiamo aperto i cantieri questo anno è stato anche l'anno in cui lo vedrete io spero che potrà essere resa nella sua proprio completezza anche l'idea di come l'amministrazione ha voluto sollecitare incalzare il gestore per dire ascolta guarda che in consiglio comunale è venuta questa proposta per questo Moretti si vedrà che sono state considerate è stato chiesto al gestore di verificarle il gestore tra l'altro è come dire il gestore del servizio idrico integrato è qui è in ottemperanza al ruolo le funzioni e gli obblighi che la normativa del settore idrico attribuisce appunto al gestore non è che c'è perché lei diceva prima è di parte c'è un ruolo che è definito dalla legge e questo progetto è stato un progetto sviluppato dagli uffici comunali in capo all'ingegner Totti in relazione con il gestore in questo anno ci siamo conquistati un rango non solo una visibilità nazionale ma è una priorità nazionale sono stati aperti tre cantieri e poi abbiamo preteso che tutto quello che era emerso dal dibattito fosse considerato tant'è che vedrete che nel PSB ottimizzato ci sono alcune delle proposte che sono emerse qui che sono state avanzate adesso non voglio citare i nomi dei consigli però mi viene in mente delle cose di giudici delle vasche di laminazione di Renzi anche Camporese ha parlato di vasche di laminazione poi e come lo dicevate come lo dicevate però vedrete che questo anno è stato l'anno in cui le proposte emerse sono state prese analizzate e si è tentato di capire attenzione qui perché non bastano le suggestioni progettuali le idee o un progetto di massima siccome noi dobbiamo partire domani noi dobbiamo partire domani anzi dobbiamo partire ieri il progetto che si propone con la delibera è un progetto che per forza deve avere tutte le complessità e l'elaborazione da un punto di vista ingegneristico idraulico della sostenibilità economica finanziaria cioè qui se Rimini deve risolvere il problema non è che possiamo aprire come dire un meccanismo per cui noi dobbiamo sviluppare un progetto che ha tutte le caratteristiche il mancare di una di queste caratteristiche fa crollare il progetto non è che se manca una componente di elaborazione idraulica ne posso fare a meno perché nel frattempo sviluppo quella ingegneristica e me ne manca un pezzo di sostenibilità economica qui tutto si tiene e allora oggi presentiamo un progetto dove quest'anno è stato anche l'anno in cui sono stati raccolti i contributi vado a finire si presenta che cosa un PSB appunto ottimizzato che è il frutto adesso si tengo anche che senta Renzi è il frutto è il frutto anche di un confronto ti aspettavo è il frutto anche di una verifica delle proposte che sono emerse qui di una loro verifica anche da un punto di vista tecnico economico tant'è che alcune proposte le vedrete a me quando successivamente sono state presentate sono stato contento del fatto che il contributo di un consigliere indipendentemente da quali banchi occupasse fosse preso fosse sviluppato quindi dal PSB al PSB ottimizzato grazie alle soluzioni ai progetti arrivati in sede istituzionale non perché alla fine quello che arriva c'è una deadline e la misuri dal punto di vista come dire della sua complessità l'intervento del piano di salvaguarda e abanazione contiene delle novità importanti perché se prima era un intervento nel PSB normale di su 8 sforatori su 11 oggi c'è un intervento 11 su 11 c'è l'obiettivo ambizioso al quale non abbiamo voluto rinunciare e che figlio mi permettetemelo di dire anche delle sollecitazioni dell'incalzare dei contributi che sono fuori da quest'aula io non voglio citarle tante ma quelle associazioni che ci hanno incalzato ci hanno messo in imbarazzo che ancora continuano giustamente a uscire da basta merdi in mara ad altre però come dire quel lavoro lì ha fatto sì che noi uscissimo da un approccio ve lo ricordate a che tendeva a minimizzare il problema b che poteva provare a minimizzarlo nel senso di trovare le soluzioni più efficienti però non risolutive col PSB ottimizzato andiamo all'approccio che ci porta a trovare le soluzioni definitive cioè c'è un salto culturale di questa città vi ricordate che il dibattito a Rimini era anche quello sì proviamo a tenuare le vasche eccetera perché lo conteniamo in fondo tutte le città di mare di medie dimensioni e di grandi dimensioni con centri storici hanno per grandi eventi di pioggia gli sforatori a mare noi qui con il PSB ottimizzato decidiamo di schiantare il problema ed è questa se volete una vittoria forse di chi l'ha sostenuta convintamente fin dall'inizio non so se qualcuno della maggioranza dell'opposizione sicuramente da qualcuno fuori dal Consiglio Comunale mi riferisco alle associazioni che dicono in ogni caso quello che deciderà di fare un'amministrazione deve valere per i nipoti per i figli e per i nipoti non pensate di spendere meno la metà perché comunque risolvete la metà del problema qui c'è un cambio di approccio c'è un cronoprogramma c'è un work in progress si usa il linguaggio di verità perché dire che la soluzione è domani questo non l'abbiamo detto quando c'era il problema di Kennedy non l'abbiamo detto quando abbiamo presentato il PSB c'è uno step che va di un lavoro un cronoprogramma che va a tappe di 2-3 anni 6-7 anni per risolvere il problema nel 2016 del 50% del 50% degli sforatori aperti e del 60% circa dei carichi inquinanti già nel 2016 questo risultato al momento poi vediamo quando lo raggiungeremo però straordinario perché era impensabile non era contenuto questo obiettivo neanche nel PSB quindi c'è un salto abbiamo detto no non va bene quel PSB bisogna il consiglio comunale ci ha chiesto di far di più di far meglio di trovare delle soluzioni aggiuntive vasche di lamina per arrivare al 2016 a questo importante obiettivo e poi nel 2019-2020 per diciamo eliminare il problema un'altra novità importante 11 su 11 è che la zona sud non è figlia di un dio minore in questo anno perché poi dopo guardate io lo dico senza polemica è davvero è un casino questa roba qua ci siamo conquistati anche una credibilità perché ad esempio un pezzo di risorse inimmaginabili ce le siamo andate a conquistare con un'idea di città con degli stralci progettuali mi riferisco ad esempio al piano città grazie al quale abbiamo ottenuto 7 milioni e mezzo e sul quale per la zona sud abbiamo deciso invece di fare il restyling sopra il lifting sopra del lungomare di mettere i soldi sotto prima non esisteva un anno fa però la capacità di Rimini di imporre questo tema questa esigenza di porlo dentro un'idea di città ci ha portato ad essere credibili abbiamo ottenuto delle risorse abbiamo sempre detto tra l'altro e qui dobbiamo essere anche attenti perché abbiamo degli anni davanti che il nostro mare è un mare monitorato è un mare che quando non ha quel problema lì degli sforatori è un mare eccellente abbiamo detto che però il problema c'era l'approccio di risolvere il problema ha spassato via il partito della minimizzazione noi siamo una città esigente se voi contate i 120 giorni di balneabilità con i 15 chilometri di costi di vieti di balneazione il partito di chi dice sì in fondo la media degli ultimi anni d'estate sono nuove aperture vale la pena investire tanto perché poi il problema della balneabilità considerato con un conto non proprio precisissimo da un punto di vista matematico però contando i chilometri le ore del divieto di balneazione e le giornate di scarico il problema della balneabilità in una stagione potrebbe riguardare il 5-6% della balneabilità riminese bene se vogliamo essere una città europea siamo una città esigente investiamo anche e soprattutto per il 5-6% perché quello è un problema enorme avere un problema così per la nostra città è un problema è un problema enorme quindi come dire oggi si presenta il PSB ottimizzato che è figlio di un confronto è figlio anche di uno scontro lo vedrete in una slide che ci sarà lo dico con il rispetto che è dovuto alla fatica e all'impegno prima il nostro referente rispetto ad esempio al gestore era il referente locale il quale ci rappresentava anche la necessità di lui stesso di dover coinvolgere il gestore nel suo corpo più forte nella sua governance vera nelle sue scelte prioritarie beh oggi come dire da l'interlocutore solo locale di ERA abbiamo il gruppo ERA che è impegnato su il più grande investimento sul sistema fognario che c'è nel paese oggi un progetto da 154 milioni lo vedrete dalle slide lo dico per ringraziare anche il lavoro fatto dall'ingegnere Martinini che è ancora qua eccetera e c'era prima Minarelli oggi lo vedrete nelle slide ERA ha come dire dentro questo progetto oltre che le risorse eccetera eccetera il corpo dell'elite del gruppo il direttore generale di ERA da questo punto di vista lasciamo stare destra sinistra i movimenti eccetera il direttore generale ingegnere Barilli è il capo progetto del progetto sistema fognario Rimini cioè il direttore generale del gruppo che è qui con noi e per questo come dire lo vedrete nelle slide quando ci sono 25 ingegneri che è il corpo dell'elite del gruppo il salto il salto il direttore generale di non è chiaro no il direttore generale di ERA l'ingegnere Barilli è il capo progetto è il capo progetto del progetto del piano di salvo guarda del bandazione ottimizzato e insieme appunto all'ingegnere Barilli c'è come dire tutta la governance tutta la componente tecnica che è a disposizione dello sviluppo del progetto quindi credo che poi dopo discuteremo si amplierà si implementerà il dibattito comunque rimane sempre aperto tra l'altro Rimini per definizione il dibattito è sempre aperto a prescindere quindi però oggi c'è un percorso che è bene rappresentare anche nelle sedi istituzionali per cui essendo un percorso svolto dal comune insieme al gestore oggi nella commissione possiamo vedere anche l'evoluzione di questo percorso che ripeto si è avvalsa l'evoluzione del confronto della verifica e anche delle alcune idee di alcune soluzioni che sono emerse nella città in sede istituzionale non grazie signor sindaco adesso diamo proprio la parola all'ingegner Barilli direttore generale di ERASPA per la presentazione del piano di salvaguardia della balneazione e il crono programma degli interventi del PSB ottimizzato prego perfetto buonasera a tutti allora parto da questa ultima affermazione del sindaco in effetti all'inizio dell'anno il consiglio di amministrazione di ERA ha preso atto della straordinaria importanza e complessità di questo progetto mi ha chiesto di assumermi direttamente la responsabilità di capo progetto attività che normalmente non svolgo in diretta perché l'organizzazione di ERA è piuttosto complessa la decisione però è stata giusta lo dico con una piccola battuta perché nel frattempo ERA ha modificato la propria organizzazione fino all'anno scorso c'erano le SOT le ricordate tutti e dal primo gennaio di quest'anno il mondo che si occupa delle attività regolate quindi distribuzione a gas gennaio elettrica cicloidico rifiuti e quant'altro è stato riorganizzato in quattro macro divisioni delle quali una è la divisione acqua in più abbiamo accentrato per diciamo far fare un salto di qualità le nostre vari pezzetti di ingegneria che c'erano sul territorio in un'unica grande struttura di ingegneria e in più il gruppo ha anche un dipartimento molto importante che è quello che nella storia ha realizzato dal punto di vista tecnico i termovalorizzatori incluso quello di Corriano orbene tutti questi tre gruppi che vi ho detto fanno capo a me e è importante che vi sottoline che in effetti la task force che è stata messa in piedi per affrontare e portare avanti questo progetto attinge da queste tre aree e quindi il coordinamento è assolutamente il mio poi vedremo anche una slide non so se c'è subito o la vediamo dopo diciamo che dallo ma vediamola subito già che ci siamo così la spiego brevemente per come dire rafforzare quello che stava dicendo poc'anzi il sindaco Gnassi dal punto di vista dell'organizzazione del progetto ma se voi pensate intanto che trovano la slide che no non è questa che la stessa Romagna Acque che peraltro è da un contributo fondamentale a questo progetto quando si trattò due anni fa di partire un anno e mezzo fa di partire con il progetto di Santa Giustina il raddoppio del depuratore e con il famoso collottore Nord che collega Bellaria al depuratore di Santa Giustina ha chiesto a ERA di fare la stazione appaltante per conto loro proprio perché Romagna Acque si sono resi conto di non avere l'organizzazione tecnica per seguire progetti di questa dimensione allora qui sono raffigurate tutte le persone il mio nome è il primo program manager o comunque capo progetto Franco Fogacci è il direttore della divisione Acqua non è qui presente oggi ma comunque dal punto di vista dell'andamento macroeconomico ricade nella sua responsabilità Tiziano Mazzoni è responsabile del territorio sta là ed è anche lui convolto del progetto e via via tutti gli altri che hanno lo sto a elencare vorrei suelencare l'ingegnere Migliori Luca che invece è lì perché lui è il vero capo del gruppo degli ingegneri anch'io ero ingegnere una volta ma ormai da qualche anno faccio un'altra attività bene fatta questa premessa e vi confermo che questo gruppo è anche per quello che mi riguarda dato che la mia pensione l'hanno messa a metà del 2018 garantisco almeno fino a quella data la presenza veniamo adesso al tema importante allora il piano di salvaguardia della bagnazione quello che fu approvato a questo consiglio comunale nel dicembre del 2011 sta in un percorso come ricordava prima il sindaco in un percorso che parte col piano generale delle fognature e oggi sperando di riuscire a spiegarvelo in modo compiuto arriva al cosiddetto piano della salvaguardia della bagnazione ottimizzato ovviamente in questo percorso la cosa fondamentale è stata quella di non mettere in discussione o in crisi i passi precedenti tutto deve essere coerente con il quadro generale e si tratta soltanto di come dire anticipare dare priorità diverse ad alcuni stralci per raggiungere un obiettivo intermedio che è quello appunto della baleazione ma siamo dentro un solco che non può essere smentito e quindi il solco principale è quello del piano generale delle fognature continuerà poi negli anni a venire con i tempi che saranno necessari avendo però assicurato come poi vedremo il raggiungimento del primo risultato la prima slide che è quella successiva non fa altro che riportare l'oggetto sintetico della delibera da voi approvata che è stato il nostro punto di partenza per questo nuovo lavoro diciamo all'inizio dell'anno ricordiamo brevemente com'era il quadro aveva un totale di impegno finanziario per poco più di 133 milioni di euro di questi all'epoca ne erano finanziati 43 milioni che erano diciamo i due grossi progetti già finanziati da Romagnacque il raddoppio di Santa Giustina e la famosa o cosiddetta dorsale nord oggi nella situazione di oggi abbiamo un altro pezzo che è finanziato qui non è rappresentato perché quella è la fotografia del momento ed è l'ultimo dei progetti il risonamento Fognario Isola è in corso di realizzazione a uno stato di avanzamento importante prevediamo di completare i lavori nei primissimi mesi del 2014 quindi oggi il quadro della copertura finanziaria è leggermente migliorato bene quando siamo partiti con con questo confronto che all'inizio è stato in effetti un po' uno scontro con il comune di Rimini il comune di Rimini e il sindaco Niasi in particolare ci hanno chiesto cinque cose la prima è ma questo insieme di progetti e di interventi molto complessi sono undici che rappresentano il PSB approvato dal comune di Rimini funziona idraulicamente è in grado di soddisfare le necessità che sono state individuate prima domanda seconda domanda si tratta di come dire non è sufficiente sappiamo che c'è una parte importante che sono i tre scarichi dell'area sud che non sono per il momento coperti ci sono alcuni interventi propedeutici ma non risolutivi e quindi la seconda cosa che ci è stata chiesta è di provare di fare un completamento adesso è venuta fuori la parola ottimizzazione ma in realtà si trattava di andare a vedere se con un quadro economico non stravolgente si potevano anticipare o comunque raggiungere i risultati per arrivare al 100% ma prima ancora di rispondere a questa seconda domanda la domanda importante era con il PSB così com'è quali risultati concreti e in quali tempi in quali anni possiamo raggiungere la quarta domanda che ci è stata posta è stata quella di come dire rimanendo nel solco che ho ricordato prima ed è importante perché bisogna diciamo mantenere una coerenza al disegno generale di vedere se come dire analizzando in modo anche critico i vari contributi progettuali che nel frattempo anche in tempi recenti erano stati posti all'attenzione dell'amministrazione comunale per vedere se c'era qualche possibile chiamiamola sinergia cioè qualcosa da poter attingere per raggiungere il risultato di più sopra la quinta domanda va da sé era quella come dire di trovare una quadratura economica finanziaria complessiva e la possibilità di partire concretamente allora queste cinque domande che hanno partorito lungo il tempo cinque risposte le vedremo in sequenza o comunque cinque stati di avanzamento ci hanno impegnato non poco anche perché qui è importante dirlo noi in questo momento abbiamo un approccio di natura strettamente tecnica abbiamo bisogno di garantire innanzitutto a noi stessi che diciamo questo complesso di interventi raggiunga il risultato che si propone e quindi le analisi tecniche idrauliche e tante altre che poi vedremo che non sono completate è stato fatto il primo pezzo che ci permette di dire l'architettura tiene ma nei prossimi mesi saranno completate in modo dettagliato per andare diciamo a fare i dimensionamenti di fini però quello che vi rappresento è un'architettura che funziona e che quindi è in grado di raggiungere i risultati che si presuppone bene non mi voglio annoiare ma almeno una ve la devo far vedere andiamo alla prossima slide per ogni situazione e questa ve la racconto perché è lo stato attuale questo che vedete o qui è la situazione di oggi con il sistema fognario depurativo esistente in tempo secco quindi senza pioggia ma prendendo come riferimento quello che di solito si considera il giorno di massimo utilizzo o consumo un weekend di luglio o di agosto con la massima concentrazione turistica quindi con il sistema fognario depurativo di natura non di pioggia ma di natura fisiologica è sollecitato al massimo allora voi vedete oggi noi abbiamo come ben sapete due impianti di depurazione il vecchio Santa Giustina che ha una capacità di trattamento di 800 litri al secondo e il vecchio Marechiesa che ha una capacità di 600 litri al secondo allora se seguite un attimo i contributi sono quelle frecce quelle linee verdi con frecce che rappresentano l'afflusso di reflui che arrivano a questi repuratori e fate la somma ve la dico io con la sua memoria in questo momento di massimo consumo che è appunto un weekend di luglio o di agosto abbiamo un apporto di 580 litri al secondo al Marechiese di fronte a una capacità di 600 e un apporto di 800 litri al secondo a Santa Giustina di fronte a una capacità di 800 come dire ma lo sapevate già che il sistema è assolutamente saturo senza una goccia di pioggia ora qualche anno fa furono realizzati degli interventi fondamentali vedete in alto sulla destra in corrispondenza dell'ausa della colonnella 1 colonnella 2 del rodella vedete questi quadratini di colore azzurro delle vasche di prima pioggia di dimensione circa 5000 metri cubica da una queste vasche di prima pioggia lo vedremo nella serie successiva hanno già dato un contributo importante al contenimento dell'inquinamento del carico inquinante che poi si sversa quando si aprono le pratoie in mare ma hanno anche dato una prima capacità di immagazzinamento che sommata alla capacità naturale che ha il sistema perché comunque sono tubazioni condotte e quant'altro fa sì che quando piove fino a 5, 6, 7 millimetri nulla vada in mare quando superiamo e superiamo sto parlando di una pioggia di piccola intensità ahimè è necessario per le pratoie per evitare guai superiori allora è importante questo dato tutto il sistema a cominciare dal piano di senare delle fognature ha preso come riferimento si deve sempre fare così prendono riferimento quando si fa una progettazione di natura idraulica che coinvolga anche ovviamente attività di pioggia la pioggia di ritorno decennale la pioggia di ritorno decennale per darvi un'idea corrisponde a 52 millimetri che cadono in un'ora il sistema il sistema che noi abbiamo verificato e in parte progettato è in grado di garantire come poi vedremo zero scarichi a mare e quindi tutti gli undici assolutamente non aperti per piogge fino a 52 millimetri e dato che questa è la pioggia di ritorno di 10 anni questo vuol dire che il sistema andrà in crisi una volta ogni 10 anni naturalmente questo è un dato statistico è più vero dire che andrà in crisi due volte in 20 anni tre volte in 30 anni 10 volte in 100 anni però questo è diciamo il valore di progettazione nella slide successiva poi questa ve la dico molto velocemente vai pure avanti Luca abbiamo la stessa simulazione fatta sullo stato attuale ma con tempo di pioggia con una pioggia pari a quella dei 10 anni ma no torno indietro questa qua allora in questo caso no no scusa torno indietro questa qua questo è lo stato attuale con tempo di pioggia quello che mi preme ve lo spiego io a voce velocemente farvi capire è l'apporto dei bacini che gravano su questi 11 scarichi vedete i blocchetti con la freccia verso l'alto rappresentano le zone urbane e poi c'è anche un contributo che arriva dalle zone del forese questo perfetto non lo vedo forse sono io ah eccolo là vabbè però si vede poco ecco va bene c'è lo punto qui sopra ma sentite fidatevi di quel che dico io eccolo qua va bene allora questi cubetti che qui sono rappresentati rappresentano la dimensione in ettari del bacino urbano e quindi il volume di acqua che arriva agli ispiratori in caso di pioggia quelli che sono nella parte più di monte sono invece rappresentano invece i bacini foresi sono questi allora dal calcolo stiamo parlando di 12 milioni di metri quadri che in caso di pioggia che riguardi tutto il bacino danno queste portate sa vassan dire che con lo stato attuale e con queste piogge tutti i bacini devono aprire le paratoie ovviamente nella parte sud sono già stati realizzati oltre le vasche di prima pioggia anche alcuni sistemi di trattamento iniziale preliminare che hanno consentito e consentono di come dire trattenere le parti più solide però questa è la situazione in cui ci troviamo va bene andiamo adesso alla situazione la prossima slide del PSB come è stato vai avanti eh ah ok ci abbiamo difficoltà è incantato no no fermati allora come vi dicevo prima il nostro punto di partenza è stato il PSB esis come è scritto lì e quindi il PSB che è stato approvato tra questo Consiglio Comunale di dicembre del 2011 vi ricordo sostanzialmente la filosofia nella zona nord la filosofia è quella della separazione totale delle reti questo grazie al fatto che eh alcune in alcune aree della zona nord questo stato di fatto è già stato raggiunto in altre aree sono stati fatti nel passato investimenti ingenti per creare la doppia eh fognatura e quindi in questi casi l'attività importante è quella della regolazione degli allacci questo è un punto importante su cui vorrei richiamare la vostra attenzione perché andare a regolarizzare centinaia e centinaia di allacci significa sostanzialmente per ogni unità abitativa alberghiera o quant'altro la disconnessione della propria del proprio scarico dalla fognatura bianca o mista o di pioggia e il riallaccio alla fognatura nera questa attività è un'attività come dire anche impopolare se mi permette del tema perché è onerosa sicuramente a carico dei cittadini perché le attività di sistemazione interna interna alla loro proprietà sono inevitabilmente a carico loro ci siamo coordinati con il comune stanno uscendo delle ordinanze e per facilitare questa attività e anche per calmirare l'impatto con i cittadini abbiamo messo a punto due linee di azione la prima linea di azione riguarda il costo dell'allacciamento per il tratto che va dalla confine di proprietà fino alla tubazione normalmente l'allacciamento è a carico di chi lo chiede stiamo parlando di cifre che possono variare tra i 500 e i 1500 euro in funzione della dimensione del fabbricato ora per questa attività abbiamo immaginato di proporre delle fortissime incentivazioni sconti del 70 80 90% che metteremo a carico degli investimenti proprio perché ci rendiamo conto dell'impatto che comunque ci sarà su questi cittadini sì sì ovviamente ci è stato chiesto di valutarlo perché l'amministrazione comunale per prima si rende conto che questa attività come dicevo prima è abbastanza impopolare la seconda linea di azione che abbiamo concordato con l'amministrazione comunale è quella di mettere a disposizione non obbligo a disposizione delle utenze private ditte qualificate con diciamo dei preziari molto competitivi e trasparenti e comunque ci sarà la nostra direzione lavori a supporto naturalmente il privato cittadino può scegliere la propria impresa per fare l'attività all'interno della propria area però sicuramente può giocare su uno sconto quantità se utilizza le imprese che nel frattempo saranno selezionate ci lamentano alcuni consiglieri che non sentono le alziamo un attimo il microfono se ci riusciamo se non cade tutto ecco va bene proviamoci ok se volete io sto seduto ma vale così mi sentite preferisco stare in piedi quando parlo e quindi dicevo la filosofia di approccio nell'area nord è quella della separazione delle reti nell'area sud non lo ricordiamo ancora una volta come sapete il PSB non era risolutivo di tutti i problemi aveva una concentrazione di attività sull'ausa che rappresenta ovviamente diciamo la fonte più importante e all'estrema destra sul la fossa Roncasso naturalmente il PSB così come era stato immaginato già prevedeva il nuovo depuratore Santa Giustina che dagli 800 litri al secondo attuali passa a quasi 3.000 per la precisione 2.900 metri cubi al secondo quindi quasi quadruplica la sua capacità di depurazione e è utile ricordare anche qui questo impianto che stiamo realizzando è un impianto innovativo è il più grande impianto esistente in Italia con la tecnologia dell'ultrafiltrazione quindi sono delle membrane che diciamo è una concezione avanzata rispetto ai depuratori classici delle membrane che consentono diciamo il raggiungimento di obiettivi di qualità molto molto elevati altro progetto importante è la riconversione del marechese in vasca di accumulo perché sostanzialmente diciamo la capacità di accumulo del sistema deve essere aumentata così come era già prevista una vasca di accumulo più importante per l'Ausa nonché il recupero della cosiddetta vasco ospedale quindi la trasformazione con l'integrazione di un progetto già esistente che aveva altre finalità per aggiungere altre finalità in particolare quella della laminazione bene andiamo avanti come vi dicevo prima ce la facciamo andare avanti ah ok no no va bene ma questa la possiamo saltare perché se no ecco a questo punto la seconda domanda dopo aver fatto le verifiche idrauliche di cui parlavo prima la seconda domanda che ci è stata posta dall'amministrazione è sì ma che effetto fa cosa succede in funzione dell'avanzamento degli investimenti che assommano per il PSB originario a 133 milioni che effetto fanno la riduzione delle aperture piuttosto che la riduzione del carico inquinante e quindi abbiamo fatto questa prima analisi ve la spiego brevemente voi vedete una linea rossa che è quella degli investimenti che negli anni previsti in questo caso fino al 2018 assommavano a 133 milioni comprensivo dell'impianto di repurazione di Santa Giustina e vedete le altre due righe quella azzurra è quella che rispetto all'attuale situazione di 100% di aperture le famose 9-10 medie annue che ricordava prima Sindaco come si riducono nel si sarebbero ridotte nel tempo le aperture fino ad arrivare al 2018 a una percentuale vicina al 90% quindi una riduzione all'11% delle aperture rispetto alla situazione attuale la curva verde invece è quella del carico inquinante qui espressa in COD allora questa rappresentazione non ha soddisfatto l'amministrazione comunale c'è stato detto chiaramente l'avanzamento temporale quindi il miglioramento sembrano non essere troppo legati alla curva dell'investimento e quindi c'è stato chiesto vai alla slide successiva c'è stato chiesto di come dire migliorare agendo sull'anticipazione o comunque su una calibrazione diversa degli investimenti del piano di raggiungere più velocemente degli obiettivi di qualità e allora abbiamo a lungo lavorato e abbiamo prodotto questa valutazione la linea blu che è quella della riduzione percentuale delle aperture e in questo caso l'abbiamo tarata sull'aprile 2016 cioè prima della stagione balneare 2016 è ridotta a circa il 50% mentre è quindi un dimezzamento sostanziale del numero di aperture degli scarichi rispetto alla situazione attuale mentre la curva la linea tratteggiata verde rappresenta la riduzione del carico inquinante sempre spesso in termini di COD che addirittura arriva quasi al 60% qual è stato il miracolo non c'è nessun miracolo qui sotto abbiamo semplicemente deciso nella cronoprogramma iniziale deciso di anticipare la grande vasca già prevista per l'ausa e quindi fare entrare prima in funzione diciamo questo meccanismo di laminazione che già aveva comportato ha comportato degli effetti benefici con le piccole vasche di prima pioggia che oggi abbiamo lungo gli scarichi della zona sud quindi raggiunto questo prima risultato questa prima risposta tra virgolette positiva siamo sempre nella situazione del PSB originario e quindi non con il completamento dell'area sud andiamo alla prossima e ancora in questo confronto l'amministrazione comunale ci ha chiesto di fare di più e in particolare ci ha chiesto di come dire analizzare intanto soluzioni che potessero portare al raggiungimento del 100% della chiusura degli scarichi ma anche di analizzare le altre proposte che erano pervenute all'amministrazione comunale bene a questo punto vai pure avanti abbiamo analizzato questi tre progetti adesso i nomi sono quelli che abbiamo diciamo individuato per riconoscere immediatamente devo fare però una premessa che è importante come ho detto prima ma devo ricordarlo noi siamo in un solco il solco è quello del piano generale delle fognature che dice delle cose e che ha un arco temporale di molti decenni e ha anche degli investimenti particolarmente elevati poi è nato il PSB con l'obiettivo è un piano stralcio del piano generale delle fognature con l'obiettivo di raggiungere un risultato intermedio avendo a disposizione diciamo somme o comunque prevedendo investimenti più contenuti e poi come vedremo PSB ottimizzato quindi noi abbiamo analizzato queste proposte nel solco di quel percorso è evidente che ci possono essere anche soluzioni completamente diverse alcune di queste lo sono come la cosiddetta proposta Solaroli che sostanzialmente prevedeva di affinare quasi passate il mio termine quasi di mettere un impianto di repurazione per ognuno degli unici scarichi ma erano in contrasto con il solco precedente allora da questi progetti che adesso vi dico in termini generali e trasversali è nata un'idea che per certi versi sta sia nel parco del mare che nella proposta Benelettini e cioè quella di aumentare ulteriormente la capacità di accumulo seppure con approcci diversi qui è stata fatta una considerazione questo vi chiedo tre minuti di attenzione perché questo è il punto più importante di tutta la discussione allora se prendo ad esempio il progetto parco del mare nasce da un'idea fantastica dice faccio degli accumuli così grandi che qualunque cosa piove la trattengo questo è il succo ma per certi versi anche il progetto Benelettini cosiddetto Benelettini ha questa idea trattengo tutto ciò che piove qual è il risultato e qui torno sull'esempio del parco del mare perché mi è più congeniale come esempio il risultato è con 435 37.000 metri cubi una dimensione enorme mostruosa e tra l'altro molto costosa si rischia inevitabilmente quando quest'acqua una volta che si è raccolta e peraltro si è isolata perché prima ci sono i refugi poi c'è la prima pioggia la seconda pioggia la terza pioggia alla fine acqua pura si rischia si rischierebbe di dover per i tre quarti di questa enorme dimensione che praticamente come poi vi farò vedere acqua pulita di seguire un costo enorme per l'invio in n giorni all'impianto di depurazione di Santa Giustina che essendo dimensionato per quello che è avrebbe bisogno di 13, 14, 15 giorni per recuperare tutta questa massa con la difficoltà che dopo il primo giorno si trova dell'acqua pura e voi sapete meglio di me ma se non lo sapete ve lo dico io che un impianto di depurazione ha bisogno di un'acqua con un carico biologico importante altrimenti tecnicamente non funziona la flora batterica che viene sviluppata apposta per aggredire e ridurre le sostanze biologiche con l'acqua pulita morirebbe e quindi perderebbe completamente la sua capacità di funzionamento quindi noi abbiamo preso da questi progetti l'idea base che è quella di fare uno sforzo per aumentare un po' e non di poco perché vedremo che siamo passati da 30 a 100 mila portare quindi a 100 mila scomplessivamente la capacità di laminazione perché fino a quell'acqua non mettiamo in crisi nei costi nel sistema di depurazione il resto che è come vi farò vedere dopo acqua migliore di quella che è in piante di depurazione è semplicemente di rottarla in mare per cui ho già completato poi se volete entriamo nel dettaglio l'idea chiave ma è questo è un concetto puramente idraulico se adesso allora andiamo se volete possiamo saltare per non fare la cosa troppo lunga volete? bene allora vediamo vediamogli uno per uno anche perché qui sul progetto Parco del Mare cosiddetto giuste le cose che vi ho appena raccontato c'è un'altra c'è un altro punto di sinergia che sostanzialmente è quello di trovare una appunto sinergia costruttiva realizzativa per provare a declinare e raggiungere altri obiettivi di natura non idraulica in questo caso ma di arredo urbano piuttosto che posti out e quant'altro è evidente il concetto che se io devo realizzare una vasca di grandi dimensioni questa vasca le fondazioni di questa vasca la soletta di questa vasca possono essere il supporto per un'altra struttura e conseguentemente posso trovare delle sinergie costruttive tant'è che nelle nostre valutazioni abbiamo immaginato una percentuale importante circa il 15% di riduzione del costo di queste vasche da attribuire al ciclo idrico comunque alla sistemazione idraulica perché possono essere sinergia con altre opere strutturali quello che non ci tornava in questo progetto era la dimensione ma ve l'ho già spiegato prima tra l'altro secondo le nostre valutazioni per le vasche che abbiamo realizzato nel passato il costo medio di una vasca può andare dai 250 ai 350 euro per metro cubo 400 mila metri cubi significa non importo che passi ai 100 milioni ecco da notare che ciascuno di questi progetti non è sostitutivo ovviamente del PSB perché il PSB comunque la zona nord va fatta comunque Santa Giustina va fatta comunque la dorsale nord va fatta comunque il Marecchese va convertito quindi questi progetti nella loro diciamo concezione non erano sostitutivi ma in gran parte a sommare in gran parte a sommare abbiamo fatto anche questa analisi del PSB base quindi è sbagliato confrontare 133 o 154 col costo di questi progetti ma dei 133 almeno 100 110 comunque sarebbero stati necessari sono necessari per realizzare le opere di cui vi appena parlato quindi da questo progetto abbiamo preso l'idea dell'invaso e della sinergia con i parcheggi andiamo avanti da questo progetto che sostanzialmente il progetto Benedettini al di là diciamo della diversa impostazione un'unica grande vasca secondo noi di dimensioni molto grandi però non avevamo elementi idraulici a supporto specifici ma quindi assimilando che avesse lo stesso obiettivo del progetto del parco del mare quindi trattenere tutte le piogge avrebbe avuto comunque una dimensione molto importante però anche da qui abbiamo desunto l'idea per risolvere i tre scarichi di mettere diciamo delle vasche l'ultima proposta progettuale è quella che qui è definita a Solaroli soluzione discreta anche questa è un'intuizione interessante ho 11 scarichi li tratto tutti in modo da poter avere acqua pulita purtroppo per trattare 11 scarichi che in parte hanno un carico biologico bisogna mettere dei depuratori veri e propri ci vogliono le sezioni biologiche non basta certo la grigliatura la sabbiatura quanto è riportato lì e quindi l'idea di fare 11 depuratori che peraltro sarebbero stati come dire in gran parte sostitutivi di quello di Santa Giustina allora quindi completata questa disamina e desunte delle idee delle ottimizzazioni insomma abbiamo battezzato questo piano della salvaguardia ottimizzato che si muove sostanzialmente su due filoni su due driver principali allora innanzitutto è una delle risposte che dovevamo all'amministrazione comunale una soluzione progettuale che sempre dimenticando che siamo in un solco dal piano già delle fognature a un PSB ottimizzato poi negli anni il completamento e quindi con progetti che non fossero in contraddizione di quelli previsti nel suo complesso ma una soluzione complessiva delle criticità legate alla bagnazione e quindi un progetto che riducesse a zero in un arco di tempo come poi vedremo contenuto gli scarichi a mare per una pioggia con tempo di ritorno di 10 anni e questa risposta l'abbiamo trovata poi visto che questa costa un pochino di più di quella del PSB originario per il quale peraltro anche lì andava ricercata comunque la copertura economico-finanziaria abbiamo analizzato insieme a Romagnacque e all'amministrazione comunale la copertura economico-finanziaria di questo intervento e abbiamo in relazione anche alle tempistiche e siamo arrivati a definire perfino quale sarà una proiezione molto attendibile degli incrementi tarifari qui devo premettere logica e stile lo richiedono che c'è anche un terzo soggetto o quarto che si chiama Tersir che è informata perché noi li abbiamo tenuti informati regolarmente che a un certo punto dovrà assumere questo piano cosa che farà senz'altro e determinare le tariffe ma dato che insomma il mestiere lo conosciamo vi posso assicurare che le valutazioni che abbiamo fatto noi sono assolutamente corrette più o meno un per mille ma questo ve lo posso assicurare andiamo avanti allora in cosa consiste questo PSB ottimizzato questo credo è l'ultima volta che vi faccio vedere questo schema che vi è sicuramente venuto noia allora nella sostanza vedete là in alto a destra non c'è bisogno del puntatore tre rettangolini arancioni i tre rettangolini arancioni sono la novità l'aggiunta sostanziale di questo PSB e rappresentano e rappresentano tre grandi vasche di laminazione la prima sinistra è la più grande a 70.000 metri cubi ed è quella ingrandita dell'Ausa rispetto al progetto originario la seconda è a metà strada tra il colonnella 1 e il colonnella 2 ed è da 20.000 metri cubi la terza è quella per il Rodella ed è da 10.000 metri cubi queste tre vasche sono tra loro collegate da sistemi ovviamente ritubazioni e pompaggio e la loro dislocazione nel territorio oltre a una capacità di laminazione importante 100.000 metri cubi dà anche come dire una sorta di mutuo soccorso perché è ovvio che a volte in particolare temporali estivi hanno un areale abbastanza limitato quindi sono collegate tra loro e comunque sono tutte collegate alla vasca principale che è quella dell'Ausa che mantiene in queste ipotesi progettuali la famosa condotta sottomarina perché la condotta sottomarina allora la condotta sottomarina si vuole per il motivo che dicevo prima se abbiamo 400.000 se avessimo 400.000 metri cubi progetto originario ma sappiamo che di questi 300.000 è acqua pulita non ha senso al mondo prenderla pomparla portarla al depuratore trattarla e rimetterla in mare ma si mette in mare così com'è e vi darò dopo la dimostrazione tecnica di quanto sto dicendo quindi quel tubo quella condotta che sarà della dimensione della lunghezza adeguati come risulterà da un lavoro che abbiamo già commissionato all'ARPA per fare analisi meteomarine e naturalmente all'istituto come si chiama quello delle ricerche Lex Daphne per intendersi in modo da poter avere tutte le assicurazioni del caso rappresenta la valvola di sfogo del sistema perché vi ricordate prima abbiamo detto che la valutazione idraulica di questo sistema è sulla pioggia di ritorno 10 anni famosi 52 mm per ora di pioggia le vasche da 100.000 non sono in grado di raccogliere da questo bacino una pioggia di 52 mm ma vi ho già detto prima che è la prima la seconda pioggia che sono quelle inquinate dato che le nostre vasche sono sagomate come tutte le vasche dei centri di questo mondo in modo da tenere separate le prime le prime acque che vi arrivano dalle seconde terze e quarte che sono invece sostanzialmente acqua pulita perché piove su strade già lavate per intendersi allora quest'acqua man mano che arriva per eventi importanti viene sfogata in mare e questo è il PSB ottimizzato vado avanti sono quasi alla conclusione poi risponderò a tutte le vostre domande e a questo punto qual è l'impatto da noi valutato in termini di riduzione dei divieti di valiazione è la curva rossa che mantiene lo stesso step intermedio concordato al 2016 e raggiunge zero alla fine del 2020 e quindi alla fine del 2020 però con questo andamento che appunto è quasi dimezzato al 2016 e ridotto di due terzi nel 2017 e così via la curva azzurra è quella della riduzione della CO del COD che come vedete praticamente viene decimato rispetto alla situazione attuale la curva che cresce è quella degli investimenti in questo caso c'è scritto 111 e non 154 perché non è stato considerato ma solo per rappresentazione l'investimento di Santa Giustina comunque gli interventi complessivamente sono 154 milioni ed è per convenzione l'elemento di riferimento quando si tratta di carico inquinante di origine biologica si misura così ok bene andiamo avanti andiamo avanti allora questo è il nuovo quadro economico i 154 i 133 milioni della rappresentazione precedente sono diventati 154 qui sono elencati tutti i progetti nella sostanza l'incremento di circa 20 milioni è quello relativo alle vasche che ovviamente non c'erano prima quella del colonnella 1 e 2 e quella del rodella e quella dell'ausa era da 30 mila metri cubi invece qui sono 70 a questo punto ci siamo posti credo il problema della copertura e questa slide vi rappresenta diciamo come abbiamo ripartito i 111 milioni i 111 milioni che rispetto ai 43 già finanziati per Santa Giustina e per la Dorsale Nord e sostanzialmente come vedete qui abbiamo una contributo paritetico da parte dei tre soggetti Comune di Rimini Romagna Acqua ed Era con delle diversità per esempio Romagna Acqua l'abbiamo fatta a partire dal 2015 perché negli anni 12-13-14 è già fortemente impegnata per Santa Giustina il contributo del Comune di Rimini che poi vi diranno eventualmente meglio per quello che mi risulta è già coperto per il 50% quindi per i 14 e per i 15 e comunque è un contributo da considerarsi a fondo perduto nel senso che è un contributo pubblico i contributi sia di Romagna Acqua che di Era sono anticipazioni finanziarie secondo la normativa del ciclo idrico recentemente emessa dall'Aeghe e con le nuove regole dell'Aeghe saranno recuperati in tariffa nei successivi 25 anni ma vi farò vedere com'è l'evoluzione tariffaria eccola qua esattamente allora intanto come sapete Rimini non è l'unico come dire soggetto idroesigente della provincia di Rimini e il piano delle fognature o PSB non è l'unico oggetto che ha bisogno di investimenti perché ci sono ovviamente le manutenzioni straordinarie e ci sono altri interventi su altri territori della provincia riminese lo sforzo che è stato fatto lo vedete nella riga altri investimenti exato Rimini per complessivi 58 milioni è stato quello di prevedere tutti a carico di Era questo ci tengo a sottolinearlo 6 milioni di dote l'anno per soddisfare oltre i soldi che si mettono nel PSB sia le esigenze di manutenzione straordinaria delle altre infrastrutturidiche che soprattutto le esigenze di altri comuni come Riccione e Cattolica che per fortuna in dimensione minore hanno anche le loro esigenze questo almeno per quello che ho raccolto ho letto dalle stampe comunque è stato apprezzato diciamo allora questo rappresenta il piano complessivo come vedete sulla provincia di Rimini adesso faccio un conto per provincia perché comunque le tariffe sono provinciali il totale degli investimenti che verrà messo da qui al 2020 è 212 milioni di euro di questi 58 sono extra PSB e la differenza 154 del PSB i 154 come vi ho già detto sono 43 per Santa Giustina più 36 37 milioni a carico di ciascuno dei tre soggetti coinvolti facendo le simulazioni tariffarie dopo aver naturalmente considerato la pianificazione degli investimenti avendo applicato la nuova regolazione AIG che da questo punto di vista ha introdotto una variante molto importante ha postergato di due anni di 24 mesi il recupero in termini di ammortamento quindi e solo per stracci funzionali quindi io oggi e investo spendo un milione di euro per fare un tubo quando l'ho finito e messo in esercizio da due anni dopo comincio a metterlo in tariffo in tariffa questa è la nuova regolazione piace o no è quella questo come vedete ha un impatto particolarmente positivo nel territorio di Rimini perché consente addirittura per il 2013 abbassare leggermente la tariffa cioè nel 2013 la tariffa che pagano i riminesi è inferiore a quella del 2012 praticamente rimane inalterata nel 2014 proprio per l'effetto di questi due anni e dal 2015 per effetto degli investimenti che si fanno nel 2013 comincia ad avere una crescita la crescita è stata da noi valutata ma vi assicuro che è una valutazione molto precisa mediamente mediamente perché poi a terzi potrà aumentare di un punto un anno e ridurre di un punto l'anno successivo intorno al 4,5% all'anno per la durata dei lavori perché i lavori durano 8 anni il recupero comincia 2 anni dopo e durano 7-8 anni per 7-8 anni è chiaro che a regime nel 2020 o 2021 diciamo non ci sarà più incremento tarifario per il PSB perché si sarà esaurito è talmente vero questo che se andiamo alla slide successiva abbiamo fatto un confronto visto che siamo in ambito romagnolo ma in ambito romagnolo delle tariffe idriche deliberate da Tersir secondo la metodologia e che nel 2013 come vedete a Rimini la tariffa media è di 1,89 euro contro tariffe sensibilmente più alte a Fornice-Segna e Ravenna rispettivamente di 2,23 e 2,19 perché le tariffe sono più alte in quei territori risposta perché sono stati fatti negli anni più investimenti di quelli che sono stati fatti a Rimini come dire questo territorio e il PSB ne è una dimostrazione è un po' in ritardo rispetto a quello che hanno fatto altri è talmente vero che quando saranno completati gli investimenti relativi al PSB abbiamo preso come riferimento il 2020 le tariffe da noi calcolate immaginando che nei territori di Fornice-Segna e Ravenna ci siano investimenti in linea con l'attuale si raggiungerà di fatto l'equilibrio la parititecità tra le varie realtà provinciali quindi sostanzialmente tutti i cittadini della Romagna pagheranno la stessa tariffa naturalmente questi dati ancorché corretti vi prego di considerarli provvisori perché l'unico ente autorizzato a fare di tariffa è a Cersia certo cosa significa questo aumento il 4,5% all'anno per diciamo un consumo medio di una famiglia e quindi di un contatore riminese significano circa 9 euro l'anno questa è la stima quindi 70-80 centesimi al mese come al solito quando si parla di acqua io so che qui il dibattito politico è molto acceso e faccio sempre personalmente questa battuta tutti stiamo a parlare di acqua e quindi delle decine di centesimi o pochi euro che questo comporta come aggravi di spesa e ci dimentichiamo che abbiamo una situazione di bolletta energetica dove paghiamo 30-40% in più che in Europa mentre per l'acqua paghiamo 3-4 volte meno che in Europa per le politiche scelerate che ha fatto questo paese in campo energetico e qui mi fermo perché non è compito di andare avanti ho quasi concluso ho ancora due slide che vi vorrei fare ah vabbè tre questo è il cronoprogramma abbiamo previsto per ogni intervento le attività di progettazione le attività di autorizzazione e qui assieme al comune e a tutti gli altri enti dobbiamo fare veramente massa critica perché gli itali autorizzativi a volte sono massagranti i periodi di appalto che sono i quadretti azzurri e le esecuzioni questo ovviamente è sintetico abbiamo dei programmi molto più dettagliati dal punto di vista operativo personalmente facciamo una riunione ogni 15 giorni di avanzamento interno personalmente facciamo una riunione una volta al mese per ognuno dei cantieri avviati la prossima di Santa Giustina è il 26 di luglio e stiamo anche studiando alcune accelerazioni adesso vi faccio vedere ancora due slide e poi ah questo è lo stato di avanzamento no scusa fallo vedere allora i primi tre progetti sono avviati Santa Giustina la Drossale Nord e il progetto del risanamento isola poi abbiamo a livello di perché noi stiamo progettando quindi abbiamo già la progettazione definitiva in attesa della conferenza dei servizi per la conversione del mare chiese abbiamo in stato avanzato la progettazione per la separazione delle reti nord insomma tutto tranne la condotta sottomarina perché per la condotta sottomarina dobbiamo aspettare diciamo alla fine di quest'anno per avere è scritto nella terza o quarta nell'ultima o penultima riga diciamo le analisi meteomarine che abbiamo ordinato quindi la fase di il 30% del lavoro di 47 milioni sono in corso il rimanente 70% è a un buon livello dal punto di vista dell'ingegneria ecco perché vi dico che questo è un progetto che si può realizzare nei tempi che sono stati definiti ultime due slide e poi mi taccio arrivo la spiegazione di quanto vi dicevo prima sul carico della COD e quello che è successo nella storia recente chissà se avremo anche le balene un giorno però sono un po' ingombranti e poi l'acqua e basta grazie Grazie. Ce la fai, Luca? Ok. Ah, perché ero in backup nell'ultima, vabbè. Ok. Questa è una cosa molto importante. Allora, come abbiamo detto prima, si misura in termini di COD ed è valutata in chilogrammi, chilogrammi anno, se volete, sversati in mare, l'impatto del carico inquinante in natura biologica. Allora, qui parliamo della zona sud. Abbiamo analizzato, dietro a quelle poche slide che vi ho presentato, c'è una montagna di lavoro. Allora, nella zona sud, in occasione delle circa 9-10 aperture l'anno che si sono verificate nelle stagioni estive, però questo è anno, chiedo scusa, per tutte le aperture dell'anno, non solo quelle estive, prima che facessimo le vasche di prima pioggia da 5.000 metri cubi già esistenti, dall'Ausa, a Roncasso, si sono sversati mediamente ogni anno in mare 165.000 kg di COD. Ok. Poi abbiamo fatto le quattro vasche di prima pioggia, quelle piccoline da 5.000 metri cubi che vi ho rappresentato in una delle slide precedenti, e l'attuale, quindi oggi, con l'attuale sistema, la COD, mediamente scaricata nei 12 mesi nella zona sud, è insesa la 165.000 a 95.000. Quindi, con quattro piccole vasche, abbiamo quasi dimezzato, ridotto nel 40%, il carico inquinante di COD. Perché? Perché è ovvio che la prima acqua, sia dei refugli e delle prime piogge, è quella più alto carico. Per cui, se io trattengo quella, riduco di molto. Allora, con il PSB ottimizzato, e quindi passando da 20.000 a 100.000, per le vasche che vi abbiamo detto, secondo i calcoli che abbiamo fatto, che rifaremo mille volte, però questo dato ve lo presentiamo, perché ne siamo confidenti, e quindi col PSB ottimizzato, ciò che si scaricherà in mare, quello attraverso il tubone, perché è l'unico che scaricherà, e tutto il resto, saranno 18.800 kg anno, e quindi 10 volte meno che nel passato. Ma analizziamo un attimo questo dato, perché lo dobbiamo rapportare anche ai volumi che vengono scaricati in mare. E andiamo alla slide successiva. Stessa storia, sempre zona sud, sempre tutto l'anno, statisticamente, prima degli interventi sulle vasche di prima pioggia, noi scaricavamo, attraverso gli eventi che causavano l'apertura delle paratoie, circa 1.300.000 metri cubi ogni anno, con quei 165.000 kg di C.O.D. che vi ho fatto vedere prima. Attualmente ne scarichiamo 1.100.000, con il PSB ottimizzato, con l'unico scarico, che sarà il famoso tubone, o condotto a sottomarina, arriveremo a 460.000 metri cubi. Cosa succede a questo punto? Che se uno fa la concentrazione, so che questa è un'operazione scorretta, perché dovrei fare concentrazione giorno per giorno, evento per evento, ma consentitemi in questo momento di fare una concentrazione bruttale mediano. prendo i 18.800 kg di C.O.D. li divido per 460.000 metri cubi, ottengo una concentrazione di 40 mg litro. 40 mg litro è ciò che mediamente, in un anno, uscirà dalla condotta sottomarina. 40 mg litro. Lo sapete a quanto è autorizzato un depuratore come quello di Santa Giustina come scarico? Quando esce pulita, qual è il limite autorizzativo? Lo sapete? 150. Quindi vi sto dicendo che l'acqua che uscirà dal tubone ed è la dimostrazione di tutto quello che vi ho detto prima, perché acqua pulita, sarà 4 volte più pulita di quella che uscirà dal depuratore di Santa Giustina. per cui non ha assolutamente senso portarla a quel depuratore. Ho finito, grazie.